C'è sicuramente un po' di rammarico perché alla fine poi, a fine primo tempo, credo che i risultati erano tutti favorevoli, quindi un minimo di rammarico c'è, ma dentro di noi c'era anche la consapevolezza che si poteva andare ad affrontare il play-out e quindi di conseguenza non è nulla di perso. Abbiamo avuto le nostre occasioni, probabilmente il primo tempo doveva chiudersi con un margine un po' diverso, non siamo stati bravi a chiudere la partita, ma quello che dovevamo fare era portare i tre punti a casa e l'abbiamo fatto. Sicuramente questi giorni in più ci daranno modo di recuperare probabilmente qualche giocatore e quindi di preparare al meglio la sfida dei play-out, che credo sia con il Lanciano, poi penalizzazioni o meno, ma credo che sia con il Lanciano. Quindi sì, è vero, è stato un secondo tempo meno bello rispetto al primo e nonostante tutte le nostre occasioni da gol ce le abbiamo avute che non avevamo sfruttato, purtroppo. Partiamo dal presupposto che il Como qua è venuto a giocare la partita di fronte ai nostri tifosi, penso che chiunque venga ad affrontarci abbia la voglia e la cattiveria per volerci far male. Il secondo tempo è vero, io non saprei da una spiegazione perché siamo entrati forse con meno mordente rispetto del primo tempo, però comunque l'obiettivo che ci siamo prefissi durante la settimana era quello di vincere e di sperare. Abbiamo vinto e quindi adesso ci prepariamo ad affrontare i play-out. Il Livorno ha un tifo più caloroso rispetto a quello del Lanciano, credo che possa essere l'unico fattore che ci spinga magari a preferire il Lanciano rispetto al Livorno, però sicuramente chi giocherà contro di noi è indifferente a questo punto del campionato.